Abbiamo visto la verità, e la verità è l'ignoto, ma l'ignoto non è una verità assoluta. La verità è che l'ignoto è verifiero come solo la verità dell'ignoto può esserlo, e questa è la verità. Abbiamo cambiato il nostro mondo per la prima volta dall'ultima volta, immaginando il nuovo sistema robot. Grazie al microchip aggiornato e alla nuova IA integrata, questo sistema operativo consente all'utente di vivere un'esperienza veramente unica, con accesso a una serie di funzionalità innovative. Non è solo l'unione perfetta tra software e hardware, questo è il lifeware. Robot, lasciaci il futuro e il passato si scontrino per definire il presente.